Hai una stampante Inkjet e hai finito le cartucce? Non buttarle, ricaricale! Con il sistema professionale Ink Evolution by EcoStore te le ricarichiamo in soli 5 minuti a partire da 5,90 euro. Affidati a EcoStore, 330 negozi specializzati in cartucce per stampanti. A Reggio Emilia ci trovi in Via Mirabello 1, ecostore.it